Il Baku City Circuit, sede del Gran Premio dell'Azerbaijan, sottopone l'impianto frenante a stress meccanico e termico elevato. La frenata più severa precede curva 1. La velocità iniziale è di 344 km orari. Il pilota esercita una pressione sul pedale pari a 136 kg, sviluppando una potenza frenante di 2428 kW e percorrendo 137 metri in 2,5 secondi. La velocità finale è di 109 km orari, la decelerazione massima di 4,4 G. Al prossimo episodio